Ben ritrovati con il calcio di Terchan, l'apertura dedicata agli europei Under 21 in Israele inizia bene l'avventura dell'Italia di Davis Mangia, vittoria per 1-0 sull'Inghilterra ieri sera nella partita d'esordio. Ne parleremo con Alessandro Antoniacci ai nostri studi, ciao Alessandro, benvenuto. Ciao Giulio, buon poveriggio a tutti. È un piacere averti anche oggi per parlare non soltanto dell'Under 21 di Davis Mangia ma anche della prossima partita dell'Italia di Prandelli. Lo ricordiamo domani contro la Repubblica Ceca, gara di qualificazione mondiale si pensa però già alla Confederations Cup che inizierà il 15 giugno esordio per gli azzurri di Prandelli, le 16 contro il Messico. Parliamo però subito di questa partita di Tel Aviv vinta con merito dalla... L'avventura l'abbiamo visto svariare sia per tutta la mediana che per tutto il fronte offensivo cercare frasseggi con gli attaccanti e creare superiorità tramite le sue incredibili doti dell'uno contro uno. A me è piaciuto molto anche Mangia quando ha inserito Gabbialini al posto di Immobile perché Immobile è attaccante più statico rispetto appunto all'attaccante del Bologna. Un attaccante statico in mezzo a due difensori prestanti come erano quelli inglesi peraltro di buona esperienza perché sono entrambi titolari in Premier League comunque è risultato poco efficace. Invece Gabbialini è attaccante più mobile e partiva da più dietro, veniva a fraseggiare appunto sia con le seconde punte ovvero Borini e Insigne che agevolando gli inserimenti dei centrocampisti proprio da un'iniziativa dei Gabbialini ci siamo procurati il fallo che poi ha portato alla splendida punizione di Insigne. Come individualità l'Italia è sicuramente tra le migliori di questo europeo che si sta disputando in Israele però lì dietro in difesa anche ieri con gli inglesi anche per esempio nel gol annullato all'Inghilterra la squadra di Mangia ha sofferto. Pensi che in questo percorso di crescita l'Italia debba dare un'occhiata proprio al reparto difensivo dove si soffre un po' troppo? Sei d'accordo con questa analisi? Forse sì, sicuramente i difensori italiani peccano l'esperienza perché tutti vengono dalla Serie B win tranne Capuano che però è fresco di retrocessione con il Pescara. Ciò nonostante ieri sera per esempio Donati mi è piaciuto tantissimo sia in fase offensiva nelle volte che saliva sovrapponendo appunto sull'outri destra che in fase difensiva si è resa protagonista di un paio di diagonali da difensore di altissimo livello. Ha un controllo palle, una tecnica individuale notevole pur essendo un difensore. Mi è piaciuto anche Caldirola al centro della difesa perché comunque ha destato una certa padronanza del ruolo ed è stato secondo me impeccabile nei movimenti. Chi ha subito tanto è stato Biraghi sull'outri sinistra. Tutti i pericoli creati dagli inglesi sono arrivati appunto per mano degli 1-1 di Redmond contro appunto Biraghi che ha sofferto in fase difensiva e ha mostrato lacune soprattutto dal punto di vista tecnico in fase offensiva nelle poche volte nelle quali si è proposto. Chiamarlo il punto debole mi sembra scortese verso difensori che comunque hanno dimostrato una buona affidabilità sicuramente rispetto a centrocampi attacco. lì dietro.